La Galleria Gagliardi in San Gimignano dal 1991 è uno dei riferimenti culturali tra i più importanti e completi nel mondo per la promozione permanente e la vendita di arte contemporanea. Offre una collezione altamente selezionata di pittura e scultura di artisti di fama internazionale. Dal 1991 la Galleria ha subito molte trasformazioni. È stata ampliata e migliorata a livello espositivo, oltre ad aver messo in atto importanti cambiamenti volti alla ricerca di una sempre migliore qualità delle opere esposte. San Gimignano, contesto geografico-culturale come valore aggiunto. Il luogo più adatto a fruire l'arte, dal momento che ogni cosa, a partire dal paesaggio unico e straordinario, è il frutto di una sapiente e geniale arte. La selezione di ciascuna opera è molto attenta e la scelta di ogni singolo pezzo avviene direttamente negli studi degli artisti, con i quali l'interazione è costante e volta a stingerli nella propria ricerca di innovarsi e migliorarsi. Proposte della migliore scultura ceramica, pittura concettuale, astratta e figurativa, scultura in bronzo e marmo, opere in acciaio, ferro e legno, con la presenza di artisti di importanza internazionale, per offrire costantemente un'importante e selezionata collezione d'arte. Intento della galleria è da sempre quello di creare un ambiente culturalmente ideale per il collezionista più esigente, come per il semplice amatore, affinché possano indirizzare le proprie scelte all'interno di una considerevole quantità di opere altamente selezionate. In galleria si trova uno staff di persone altamente preparate a disposizione per fornire al dedicatore ogni informazione circa le opere, tecniche e notizie per l'acquisto delle stesse. In galleria sono a disposizione i cataloghi, i libri d'arte, strumenti multimediali che supportano ogni artista dando la possibilità di conoscerlo attraverso il suo percorso artistico e le sue opere in modo cronologico e antologico. Grazie per la visione! Una sessione espositiva è destinata permanentemente alla presentazione delle opere degli artisti, all'avvicendamento di mostre personali e collettive di grande rilevanza culturale. Questo ne fa un vero e proprio museo, libero, vivo, in costante mutamento, che raccoglie sempre quanto di meglio offre la scena artistica contemporanea. La Galleria è da sempre impegnata con un progetto faranello di sensibilizzazione culturale e commerciale, attraverso collaborazioni con fondazioni, musei, altre importanti gallerie, con partecipazioni a manifestazioni e rassegne e con proposte di eventi culturali in territorio nazionale e internazionale. Grazie per la visione!